Poco più che maggiorenne aveva però a disposizione circa 150 grammi di hashish che lo scorso febbraio i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato all'interno della sua abitazione. Per una 19enne i PM della procura hanno chiesto e ottenuto il giudizio immediato, lo ha disposto il legip. I magistrati ritengono ci siano tutti gli elementi per la contestazione di spaccio. La droga era nascosta all'interno di una pochette che la giovane ha consegnato ai finanziari arrivati per i controlli. Nell'abitazione è stato sequestrato pure un bilancino di precisione che secondo gli inquirenti avvalorerebbe l'ipotesi dello spaccio. L'hashish era suddiviso in dosi. Inizialmente la ragazza venne arrestata e trasferita in carcere. Dopo l'interrogatorio di garanzia gli fu imposto il solo obbligo di presentazione. Una misura meno restrittiva, peraltro, fu subito chiesta alla difesa, sostenuta al legale Rosario Prudenti. Gli accertamenti che portarono all'abitazione vennero condotti proprio dai militari della guardia di finanza impegnati in città e sul territorio insieme alle altre forze dell'ordine nel contrasto allo spaccio di stupefacenti.